Amore, mi passi l'acqua? Ciao ragazzi, ciao ragazze No, vabbè, questo pezzo lo taglio, ma che è? Allora Un, due Ciao ragazzi, ciao ragazze Amore No, non sono bagnata, aspetta Ciao ragazzi, eccoci in live Allora, adesso veramente basta Aspettiamo un attimo che entri un po' di gente E poi mi fai parlare Perché basta Sì, sì Alice Agliardi, adesso lo dico cos'è successo Adesso lo dico Ok, siamo a 74 milioni Allora posso cominciare Allora, io veramente basta Io adesso farò la diffida Appena riapriranno i cancelli farò la diffida Mi sono veramente stancata Di tutto questo stalkeraggio Ingiusto e infondato Siete dei rosiconi Mi vedo costretta ad anticipare la live stasera Per via di quel rosicone Di cui non farò il nome Perché è veramente Il trash Francesco Ripeto bene Francesco Mi ha nominata nuovamente in live Ha avuto da rivire su di me Sul mio marito Su mia mamma Su mia suocera Allora, adesso veramente basta Basta Faccio la diffida E adesso tiro fuori la vera verità La reale verità La vera realtà Perché adesso non se ne può più Non se ne può più di questo odio gratuito Nei miei confronti Non se ne può più Adesso Prendo fuori il telefono E vediamo qual è la verità Ok Francesco? Ok? Bene Vediamo se poi Lauretta ti stravicino Vediamo Allora Adesso Cerco il numero Ok Vediamo se Se Ramona è pronta Vediamo se risponde Sta suonando Mi ha chiuso la chiamata Aspettiamo due minuti ragazzi Intanto Leggo i vostri commenti Ciao Chiara Cosa è successo? E allora A te ti blocco Perché non voglio queste domande inutili Rosicone Poi Allora Chiara Non dare soddisfazione a queste persone Allora Allora A te ti blocco Perché io mi sono Mi sto soltanto difendendo Ok? Ok? Quindi Non mi dite queste cose Perché Chiara Quando l'ha pesata E allora Si pesa quando lo dico io Perché non è una domanda pertinente al contesto Ok? Non è pertinente al contesto contestualizzato Al momento Ok? Quindi Non mi dire queste cose Aspettate Aspettate Eccola 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 ragazzi E Ramona? Ho il bambino A letto Non posso parlare a voce alta Sì sì tranquilla Chiedo solo un attimo se ti sentono Mi sentite? La sentite? Mi senti? Oh Mi senti? Ok ti sentono Aspetta solo un attimo che alzo il volume Sì vai Ok Vai pure Non so cosa devo dire Non sono mai stata in questa situazione Ecco allora Tu mi dai il consenso per pubblicare le chat Vero? Sì Ti do il consenso Perché mi sono veramente sentita presa in giro Ti hai illusa quindi? Sì Sono stata illusa Sì sì Mi aveva promesso mille cose Mi aveva promesso di andare da Primark Il sabato sera Mi aveva promesso una stanza rosa Un gatto tutto rosso Un pisellone Cose che alla fine comunque ho capito Che non esistevano Ecco allora lo vedi che è proprio un asciagurato? Vedete che avevo ragione io? E Ramona senti Tu mi confermi che le chat siano reali Vero? Sì assolutamente Le chat sono reali Ho fatto anche registrazione scherzo Ecco infatti Rosiconi Questo è il modo per far capire Che le chat sono autentiche Capito? È vero è vero Capito? Dai Adesso capisco che tu sia Abbattuta Eh Fortunatamente ho il mio bambino Che mi dà forza e speranza Ma dai Che dolce Senti come Come si chiama tuo figlio? Mio figlio Francesco Francesco Ma che bello Ok dai senti Allora Ti ringrazio per la tua testimonianza E spero che tu Non stia più male Per quell'essere schifoso Perché In realtà Mi piace ancora Ti piace ancora? Eh sì 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 E cosa ti piace di lui? Eh il modo in cui Mi aveva fatta sentire Mi aveva fatta bagnare Ma per caso Lui ti aveva anche detto Che era fidanzato Al momento? Sì ma a quanto pare Era una storiera da poco Da niente Da niente Diceva la stessa cosa Anche il capitano delle titaniche Sono un rumorino Da niente Sì sono stata proprio stupida Sì 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 dai Vabbè dai Allora Senti Laura Ramona Io ti saluto E spero di non avere più notizie del genere Guarda grazie a te Chiara Grazie Ti ringraziamo oggi Per il nostro pane quotidiano Rimetti comunque noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci da Davide Amen Ok Ok Allora sì va bene Sei perdonata dai Ciao Grazie Grazie Ciao ciao Ok ragazzi Quindi avete visto Che Ramona esiste Esiste Adesso io tra poco Vi pubblicherò anche le chat Con registrazione chiamata Con registrazione schermo Scusate E Adesso Sì Dai Leggiamo un po' Poi chiudo Perché sono le 5 Vorrei anche andare a dormire Ok Allora Ma cosa dite Ma cosa dite che si è letto Laura Ma finitela Ma come assomigliava Laura Laura Ma finitela No siete veramente Guarda Cioè Se uno prova le cose È bugiardo Se uno non le prova È bugiardo uguale Cioè ma E Ascolta A te ti blocco Perché non voglio sentire Questo è bagionato Ok Vabbè dai Questa live la privatizzo Ma che è Oh Una dacia Ciao